Il circo è arrivato in peso a voi per dare uno dei più grandi spettacoli. Da questa parte abbiamo l'uomo del bosco completamente incivilizzato. Poi abbiamo i nani, i burgoni, i burgoni del mondo. Abbiamo la donna forciuta nonché la dettrice. Poi il programma abbiamo i nani, i burgoni del mondo. Grazie. Grazie.